ricordiamo Piacenza ultimo Albino Leffe penultimo quindi è un risultato in parità comunque va molto meglio ovviamente ai Lombardi rispetto a noi attenzione recuperiamo palla sulla tre quarti con Nelli che appoggia per Cesarini sulla tre quarti non trova spazio in mezzo tre allarga adesso per Munari interna da destra deve provare il tiro con il secondo palo la divisione gol Cesarini al minuto quarantanove una zero il capitano dopo un'azione un cross di Munari sul secondo palo è arrivato credo Rossetti poi andremo a vedere la deviazione completamente sbagliata la palla invece che andare verso la porta torna indietro dove il capitano Cesarini la mette alle spalle di tutti incredibile la deviazione sbagliata del nostro attaccante ma poi è arrivato Cesarini che ha sistemato tutto e adesso al minuto quarantanove il Piacenza è in vantaggio con Cesarini ci voleva una giocata una combinazione in termini tecnici anche un colpo di fortuna e c'è arrivato il Piacenza su una bella azione di Cesarini centrale allargato per Munari il cross la deviazione della palla è arrivato lui che nell'area piccola di piatto ha messo alle spalle di Pagno ma a quel punto era impossibile sbagliare 1 a 0 per noi